Siamo con Irene Manzi, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Istruzione, stamattina intervenuta in Aula alla Camera nella discussione generale sul disegno di legge che cambia la filiera formativa tecnologico-professionale. Lei ha parlato di una sorta di antipasto di autonomia differenziata, immagino non in senso positivo. Purtroppo non in senso positivo, sarebbe piacevole ogni tanto poter essere smentiti nei fatti in concreto, ma per come questa riforma è stata costruita, questa sperimentazione è stata costruita, per la fretta tra l'altro che è stata imposta e il fatto che manchino anche delle linee guida nazionali che possano appunto creare un'uniformità a livello regionale nella messa a terra poi delle norme contenute in questo testo. Noi temiamo davvero che proprio in base a quelli che sono anche i diversi contesti produttivi che ci sono nelle regioni italiane e si crei anche in un settore importante e da valorizzare come quello dell'istruzione tecnica-professionale in Italia più velocità, con tante realtà scolastiche differenziate, ma la banca alza appunto di un quadro nazionale.